E adesso ragazzi, novità da parte di Nightcore, ma non è una torcia, non è un segnalatore luminoso, è un coltellino porta bisturi in titanio. Va sotto il nome di NTK05, questo è davvero un oggetto piccolo e leggero, ma fa il suo che è un amore. Da poco ragazzi avevamo visto il Base 2BK Utility Folder di 5.11, che questo porta a lama da tagliamuchette, da taglierino, da cutter, da cantiere insomma. Ma questa idea di portare delle lame sostituibili e molto affilate è anche presente nel Ferrum R, il Ferrum Rescue di Extrema Ratio. Vedete qui c'è proprio una lama da bisturi, qui avevamo una lama da taglierino. L'idea qual è? L'idea è di avere delle lame molto performanti, ma anche sufficientemente economiche e spendibili, che possono essere sostituiti al volo sul campo senza grossi problemi per tornare a tagliare ai massimi livelli. E Nightcore ci propone proprio la sua versione high-tech, ad altissima tecnologia, di un piccolo portalame super efficace. Ragazzi è fatto in titanio, il titanio TC4 è davvero leggerissimo, ma dà paura. Pesa solo 17 grammi, cioè meno di una carta di credito. Le lame che ci si montano sopra sono quelle da bisturi, sono chiaramente intercambiabili, con una pinza si leva, si mette, è semplicissimo. E sono le numero 11, le trovate ovunque come lame. Sono bloccate in posizione quando il coltello è aperto, beh è fatto davvero bene, quando è aperto la lama è bloccata in posizione, non può essere rimossa. Se devo rimuovere la lama mi devo recare qui, ecco su quest'angolino, dove posso effettivamente operare e rimuovere la lama, per ragioni di sicurezza. I pin strutturali, forse li vedete, forse no, tengono insieme le guancette in titanio. È tutto fermissimo. Il blocco lama, ragazzi, è un po' come quello dei Victorinox, come i coltelli svizzeri, no? Non ha un vero blocco lama, ha una molla che lo tiene in posizione, la slip joint, per capirci un pochino. E devo anche dire, questa magari è più una mia idea che di altri, ognuno ha le sue chiaramente preferenze, che mi trovo bene ad avere questo tipo di accessorio anche nei kit medici. Su medbacco.it trovate tutti i presidi per allestire il vostro kit medico, la vostra dotazione di primo soccorso. Ma spesso fa comodo avere delle lame sterili, è chiaro, avere delle lame a parte, da montare su un supporto così leggero e così sottile per piccoli interventucci da campo, come la rimozione di qualche scheggia, come la sistemazione di qualche ferita. Poi è chiaro che lì dipende da quanto ne sapete, da quanto volete fare voi, con eventualmente un bisturi e la lama numero 11. Anche l'NTK05 di Nightcore deve fare la sua prova di taglio qui a Barpacco. E vabbè ragazzi, è un bisturi. Sapete quando si dice che un coltello taglia come un bisturi? Ecco, questo è un bisturi e taglia come un bisturi. Beh, non ha assolutamente nessun problema, è un tipo di lama che taglia più di qualsiasi lama che potrete mai vedere su un coltello e anche questo magari è un aspetto che vi può interessare tantissimo. E' utile anche per quei piccoli lavoretti che magari vi trovate a fare, se vi piace il bricolaggio, piccoli interventi di manutenzione.